...incordanze, ma sostituisce ai monologhi del Dio Leopardiano la confabulazione lunare del poeta. Stai composta, puttanella che non sei altro! Hai sentito che cosa ti ho detto? Sentito. Professore, io vado in paese a fare la spesa, ha bisogno di qualcosa? No, niente. Grazie. A presto. Ciao. A presto. Sì, a molto presto. Sì.